Ora, mercoledì 22. Le notizie del TG Ora. La procura di Napoli ha chiesto l'archiviazione del fascicolo sulla morte di Lucio Materazzo, deceduto nel 2013, all'età di 81 anni. Padre di Vittorio Materazzo, l'ingegnere ucciso con decine di coltellate, il 28 novembre del 2016 nei pressi della sua abitazione a Napoli. Il fascicolo era stato aperto per l'ipotesi di omicidio volontario. Unico indagato, il figlio minore, Luca Materazzo, la chitante dal dicembre scorso con l'accusa di essere l'autore dell'omicidio di Vittorio. E' ancora un episodio di violenza a Via Toledo a Napoli. Una baby gang di circa otto minori ha assalito tre ambulanti, prima tentando di rubare la loro merce, poi iniziando a colpirli anche con delle mazze. L'episodio, raccontato dal mattino, è avvenuto dopo le 22. Numerosi passanti che hanno assistito la scena, finché una signora non ha fermato un camion dell'esercito, ha spiegato ai militari cosa stesse succedendo. I bulli che erano a vostro scoperto in sella a quattro motorini sono fuggiti nei vicoli dei quartieri spagnoli. Sul posto sono accorsi tre volanti della polizia e un'ambulanza. È stata nera sui trasporti dell'ANM a Napoli. Dal 1 luglio al 1 settembre saranno tagliate circa 40 linee di autobus in tutta la città, soppressi i collegamenti per i quartieri di periferia e i comuni dell'Interland, come Portici ed Ercolano. Cancellate le linee suburbane che collegano Ercolano e Torre del Greco con Napoli. Dimezzate le corse anche per Marano e Giuliano. La tagliola delle spettine di U si abbatte anche sui bus notturni. Saranno attivi fino al 28 luglio. Poi l'azienda dei trasporti li sostituirà con le nuove linee del By Night, che circoleranno però solo fino alle 2 di notte. Addio anche alle navette di accompagnamento del personale ai depositi. Anche gli autisti dovranno arrangiarsi per raggiungere il posto di lavoro. Complessivamente la sforbiciata riguarderà il 36% delle linee. Un milizzo alle palazzine di Giuliano in provincia di Napoli in via San Vito ha portato a termine alle 20 di ieri sera dalla polizia del commissariato locale e ha condotto all'arresto di uno storico esponente del clan Mallardo, passato poi agli decisionisti dei Paparella. Come riportato dal Meridiano, si tratta di Gennaro Catuonio, detto Scoiattolo. L'uomo era armato, aveva con sé una calibro 9 dalla matricola Brasa con tutto il canna. Con lui c'erano altri due uomini, entrambi inizialmente arrestati. Uno di due sarebbe stato poi rilasciato dopo contro il commissariato. E' un peccato di gola, tradisce la posizione di un latitante. I carabinieri della sezione catturanti di Napoli hanno individuato e assicurato la giustizia il ricercato Emanuele Passariello, un 37enne già noto alle forze dell'ordine, ricercato da maggio perché destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e messa dal GIP di Napoli per rapina. Nel mese di marzo, all'alba, travestito da addetto a lavori stradali e a mano armata, rapinò alcuni passanti nel centro di Napoli insieme al fratello Alessio, già restato a maggio. L'uomo è stato oggi catturato in un appartamento del quartiere napoletano di Vasto che aveva scelto come covo nel quale i carabinieri hanno trovato numerose confezioni di merendine di tutti i tipi. La cattura è stata possibile infatti grazie alla sorella, la sua vivandiera, che provvedeva a comprarle per lui. Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Cicciano, in provincia di Napoli. Moglie e marito, le persone a bordo di una delle due auto coinvolte, sono ricoverate in gravi condizioni. La coppia era su un'utilitaria, quando è venuto il frontale con un'altra auto guidata da un ragazzo, la vettura dei due si è capovosta. Sul posto sono aggiunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Arrivano i rinforzi in costia all'ospedale Candarelli di Napoli. Via Libera della Regione al reclutamento di 236 nuove unità di personale. Ad essere coinvolti sono i profili dirigenziali medico, infermieristico, tecnico e del comparto. Palazzo Santa Lucia accoglie dunque la richiesta del direttore generale dell'ospedale Ciro Verdoliva di anticipare le assunzioni che il Candarelli potrebbe fare da qui al 2018. L'obiettivo è guadagnare tempo prezioso nelle procedure di mobilità e concorsuali gravate da allungaggi e ritardi e anticipare nell'arco del triennio 2016-2018 la programmazione delle attività sanitarie per garantire i livelli di assistenza. E con questo per il momento è tutto. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con Telecafine. Mercoledì 22 settembre.